Sono Elena del blog EleGraf77, il mio blog l'ho aperto qualche anno fa per cominciare a condividere un po' i lavoretti che facevo per il mio bambino. Nel tempo è diventato il blog dove metto i miei lavori di grafica e anche i lavoretti che faccio con il mio bambino sempre di creatività, all'inizio erano lavoretti che facevo fare io, ora invece essendo più grande interagisce un po' di più con me e con i lavori. Metto anche essendo grafica i loghi che faccio, le riviste, tutti i lavori, anche web che realizzo per chi me lo chiede. Nel tempo vorrei migliorare il blog e farlo diventare un portale dove inserire anche lavori magari sempre di creatività, però per bambini un po' più grandi anche con laboratori per bambini e grafica sempre inerente anche alla creatività per bambini.